Fra i cliché più diffusi al giorno d'oggi in epoca di crisi c'è sicuramente quello di fare di più con meno. È anche il cliché che più disturba e indispettisce i responsabili dei sistemi informativi. In effetti loro hanno il problema di dover deliverare dei servizi alle proprie organizzazioni interne con un numero di infrastrutture sicuramente ridondante. Questo è certamente vero soprattutto per i server a disposizione, un problema che da anni è stato indirizzato senza una reale soluzione, nonostante le recenti opportunità fornite dalla virtualizzazione. Oggi, ancora oggi, le infrastrutture IT stanno letteralmente soffocando sotto la loro stessa tecnologia. Per oltre dieci anni la disponibilità di server a basso costo ha spostato l'attenzione dal server mainframe al data center con moltissimi server. Questo ha però portato una proliferazione di questi server, aumentando quindi i costi di gestione. La virtualizzazione, che avrebbe dovuto risolvere questo problema, ha portato invece un aumento ulteriore. Abbiamo quindi spostato il problema da proliferazione dei server fisici a proliferazione di server virtuali. Teoricamente un server virtuale, che può essere installato in pochissimi minuti e apparentemente senza costo, dovrebbe risolvere questi problemi. Invece ogni server che sia fisico o virtuale ha bisogno di gestione, connettività, storage e memoria e quindi bisogna prendere in considerazione tutte queste situazioni. Se guardiamo cosa dicono anche gli analisti, tipo IDC, la gestione di un data center odierno costa circa l'80% in manutenzione, far funzionare quello che è già stato installato, e solo il 20% in termini di innovazione. E questo è chiaramente un grosso problema. È necessario disporre di strumenti che permettano di innovare e al contempo mantenere sotto controllo i costi operativi. Il problema è dove trovarli. Con Cisco UCS, Unified Computing Systems, Cisco è in grado di dare qualche risposta. Innanzitutto, come dice la parola, è un sistema unificato, che unisce le risorse di storage, di rete, computing e di virtualizzazione, in un unico sistema, in un unico dominio, gestito centralmente da un'intelligenza che permette di coordinare e controllare tutte le componenti. Un livello di efficienza e di semplificazione molto diverso da quello che siamo tutti i giorni abituati a vedere negli attuali data center. Con questo nuovo modello spariscono alcuni dei problemi che hanno da sempre caratterizzato i data center. Innanzitutto vengono abbattute le barriere fisiche e il mio data center diventa un'unica infrastruttura gestibile centralmente. Inoltre, indipendentemente dal fatto che io abbia in casa dei server tradizionali o Blade, avrò sempre un unico sistema da gestire. Queste, che sembrano innovazioni apparentemente semplici, portano in realtà a delle conseguenze realmente significative. Ciò significa che all'aumentare della capacità non aumenta la mia complessità e ciò significa anche liberare il tempo delle persone da una pura funzione amministrativa ad una più concentrata sull'innovazione. Tra i vari punti di innovazione sicuramente ci sono i componenti su cui è basato UCS ed in particolare i processori Intel Xeon E7. Se guardiamo a questa nuova famiglia di processori, portano dei grossi benefici in termini di prestazioni per Watt. Abbiamo un incremento di circa il 40% in termini di prestazioni mantenendo gli stessi consumi e quindi abbiamo un beneficio che riguarda sia la riduzione dei consumi che la riduzione dei costi legati al raffreddamento del data center. Altri aspetti riguardano le prestazioni pure. Le transazioni all'interno del database possono essere 40% più veloci rispetto alla generazione precedente di processori Xeon. Se poi guardiamo l'effetto combinato dei nuovi processori all'interno della piattaforma UCS, vediamo che ci sono grossi benefici in termini di virtualizzazione e in termini di efficienza complessiva. In questo caso possiamo proprio dire che il Dipartimento IT riesce veramente a fare di più con meno. È ormai evidente che qualcosa sta cambiando nel modo di concepire i data center e che questo cambiamento è piuttosto radicale e Cisco con UCS e i processori Intel sta dimostrando come poter realizzare questo cambiamento.